ragazzi dopo tantissimo tempo sono davvero felice e finalmente posso annunciarvi il mio merchandising ufficiale ragazzi tutto ciò che vedete in questa intro ragazzi tutto ciò che sarà in vendita da questo sabato 15 quindi adesso non è ancora in vendita ma tra due giorni ovvero sabato tutto ciò che vedete adesso in questa intro sarà in vendita ragazzi sono davvero 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 felice perché dopo tanto tempo finalmente posso ufficialmente annunciare il mio merchandising che mi avete chiesto in tantissimi e finalmente ragazzi è arrivato ormai è questione di pochissimi giorni quindi sì ragazzi io spero davvero che possiate apprezzare tutto ciò che sarà in vendita nello shop vi fornirò i vari link ovviamente non appena sarà tutto pronto quindi preparatevi ragazzi perché bombarderò il link su Instagram su otto ogni mio video eccetera 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 ragazzi quindi sì spero che anche voi siate felici di questo annuncio perché io ragazzi lo sono davvero davvero tanto quindi ragazzi ci vediamo sabato con il merchandising e per il momento una buona visione con questo video bella ragazzoli benvenuti su questo nuovissimo video se volete supportarmi su fortnite è possibile farlo direttamente dall'item shop di fortnite basterà andare appunto nell'item shop cliccare sul supporta creatore in basso a destra e andare ad inserire il mio nome ovvero Croatomist accettare e il gioco sarà fatto quindi ragazzi ringrazio tutti coloro che dicevano di supportarmi e buona visione a presto Comunque ragazzi Cioè Hanno messo lo stesso rumore Cioè l'arma nuova Lo stesso rumore Del FAMAS Del FAMAS Iguale ragazzi Identico Esatto E' proprio così Ma che cagata Va a cagare Adesso silenzio Mardin Mi senti a papà Sì a papi Alla fa una bellissima doccia Che puzzo di gallina morta Va bene signor No ma Secondo me il FAMAS Dovevano metterlo come Fucile d'assalto Non una raffica Secondo me Poi Cioè esiste sia raffica Che non raffica Non so se lo conosci Vabbè Io mi vado a fare una bellissima doccia E mi vado a fare 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 Grazie. 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 Eds. what fuck dite che c'è rimasto male ragazzi due di questi sono illegali ok cioè ragazzi ho appena scoperto le armi sataniche di fortnite cioè cioè voi immaginatevi ragazzi in world cup se avete l'iground e per puro caso avete due di questi a teori che in world cup buildano ma a maggior ragione nelle ultime safe questa cosa è insana sto avendo paura in questo momento dove stanno i pliers lo sparerà dietro o sbaglio ragazzi ma che cos'è questa cosa cosa scusa no vabbè ragazzi non so se non tenere c'è un'altra arma ma davanti con quest'arma nuova è bassa health clap proprio balanced by the way eccolo ragazzi è illegale è illegale questa cosa è illegale due di questi due di questi sono illegali sono illegali non ha senso cosa ho appena scoperto cosa ho appena scoperto ragazzi è insana questa cosa è insana se per puro caso nella world cup se ne trovano due è finita comunque ciao youtube